Quanto dichiarato dall'amministratore unico della GAM Nicola Baranello all'RSU qualche giorno fa, è stato drammaticamente confermato nei fatti. Da ieri l'impianto di macellazione dei polli e il mangimificio sono chiusi. Resta aperto solo l'incubatore per l'allevamento dei pulcini per onorare il contratto ancora in essere con l'Avimec. Dunque non si allevano più polli, la filiera è ferma. Uno stop alla produzione è piombato come un fulmine a ciel sereno, senza alcuna comunicazione ufficiale da parte della regione. Erano stati sindacati, allarmati dal drammatico annuncio fatto da Baranello, a chiedere un incontro urgente al governatore Frattura, governatore che non li ha ricevuti per impegni già assunti in precedenza, ma proprio mentre i rappresentanti sindacali chiedevano l'incontro al presidente della regione, le sorti dell'azienda vicola e dei suoi lavoratori erano ormai decise. Le assicurazioni di Frattura sull'impegno della regione a non far morire l'azienda, a rilanciarne la produzione, oggi suonano come una beffa. Restano a casa 300 lavoratori che al momento usufruiscono della cassa integrazione ordinaria, che a questo punto rischia di saltare. Restano a casa, ma senza alcuna forma di sostegno, i circa 300 stagionali. E restano a casa i trasportatori che attendono di essere ancora pagati, come gli elevatori che nel frattempo stanno tentando di mantenere aperta una residua speranza, avviando le procedure per costituire una cooperativa. L'obiettivo è quello di cercare di instaurare in futuro un rapporto di collaborazione con l'ISA, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare, per tentare di tenere acceso un lumicino per l'eventuale ricostituzione della filiera, ma al momento è tutto fermo. Intanto domani dovrebbero arrivare in Molise i vertici del gruppo Avimec, di proprietà della famiglia Leocata. L'azienda agroalimentare di Modica aveva manifestato l'interesse a rilevare la gamma, riaccendendo così le speranze dei lavoratori, ma forse qualcuno ha cercato di mettere i bastoni tra le ruote scoraggiando i siciliani. Comunque la chiusura a sorpresa dell'azienda ha messo la parola fine a speranze e illusioni, mettendo tutti di fronte la dura realtà. La più importante azienda agroalimentare del Molise è stata abbandonata al suo destino, lasciata morire dopo una lenta agonia nel silenzio assordante della regione.